L'in-d-s-p-e-n-s-a-b-i-l-i-t-a, di Mario Draghi per l'Italia non è un giochino di palazzo. La ricerca commissionata da Libertà Iguale, ossia i liberal miglioristi del PD, a sociometrica e a format research intitolata Il fattore Draghi è la politica italiana, per la prima volta lo squaderna dalla parte dei cittadini. Il 70% infatti lo vorrebbe ancora a Palazzo Chigi mentre il 12% lo preferirebbe al Quirinale. Solo il 18% vorrebbe che non rivestisse alcun incarico. 8 italiani su 10, insomma, ritengono che Draghi debba essere in un modo o nell'altro alla guida del paese. Il massimo del consenso a Super Mario come capo dello Stato arriva dai giovani tra i 18 e 24 anni, mentre la preferenza a volerlo ancora come presidente del Consiglio arriva da quelli oltre i 55 anni. Il 57% degli intervistati è complessivamente contento dell'azione del governo e questo è un elemento che fa da discrimine. Di fatto, indipendentemente dalle appartenenze politiche, emerge che gli elettori se si trovano di fronte alla posizione espressa dal partito di riferimento che però contrasta con l'indicazione del governo, scelgono la seconda e trascurano l'aggancio, chiamiamolo così, ideologico. E, un comportamento di tipo pragmatico che si rispecchia anche nel gradimento a Draghi, considerato un leader atipico, forte della sua azione più che per dell'etichettatura che le forze politiche intendono assegnargli. Guardando all'orientamento politico elettorale degli intervistati, infatti, si scopre che i maggiori entusiasti del governo cioè quanti dicono di essere totalmente soddisfatti del suo operato, sono gli elettori di azione 40%, seguiti da quelli di Forza Italia, 31%, e del PD, 22%. Fra quanti sono insoddisfatti in assoluto, cioè esprimono un giudizio nettamente negativo, al primo posto non ci sono né gli elettori di Fratelli d'Italia, né della Lega, che si collocano al secondo posto, ma gli elettori di estrema sinistra, articolo 1 e sinistra italiana, per i quali totalmente contrari arrivano al 44%. In altri termini, l'influenza del giudizio dei vertici dei partiti sulle opinioni dei singoli elettorati conta ma non è automatico. Ne è scontato, visto che il 40% degli elettori di FDI giudica bene il governo. Del resto, dalla ricerca si evince che il 45% della popolazione è molto favorevole al Green Pass, mentre quelli abbastanza favorevoli toccano il 21%.